Dottoressa Moffa, oggi è una giornata speciale, lascia una scuola che negli anni ha formato migliaia di agenti. Sì, oggi è una giornata particolare, dopo cinque anni e mezzo da direttore di questa scuola, in realtà non lo lascio oggi, lo lascerò al 28, però oggi celebro questi cinque anni trascorsi. È stata un'avventura meravigliosa in cui con la collaborazione di tutti i dipendenti della scuola del quadro permanente abbiamo dato vita a corsi che, come diceva giustamente lei, hanno formato più di mille poliziotti che ora sono su tutto il territorio nazionale a garantire la sicurezza del nostro paese. Quindi l'orgoglio personale e professionale è quello di aver portato poi questa scuola del capoluogo, di una regione comunque piccola, la ribalta a livello nazionale e abbiamo dimostrato che le professionalità che ci sono in Molise possono sicuramente dare moltissimo a tutto il paese. La scuola in questi anni è proprio cresciuta, è diventata veramente un'eccellenza non solo per Campobasso ma per tutto il Molise, basti pensare che sta ospitando proprio ultimamente il corso di polizia scientifica. Esatto, questo è stato un altro grande successo, abbiamo in atto il quarto corso per operatori di polizia scientifica, proprio stamattina i ragazzi hanno realizzato il loro primo esame di questo percorso e la cosa straordinaria è che poi in questo caso veramente i frequentatori vengono da tutta Italia, per dire dalla Sardegna, la Sicilia, la Val d'Aosta e quindi anche l'opportunità attraverso la polizia di Stato di conoscere il nostro splendido paese e la nostra splendida regione. A di là dell'aspetto professionale questa scuola cosa le ha lasciato proprio umanamente? Allora guardi, umanamente tanto perché io sono proprio convinta che quello che poi struttura le istituzioni siano le persone, come dico io sempre a tutte le persone con la P maiuscola, la rete di conoscenze, di affetti che si crea te lo ritrovi poi ovunque e io oggi ho una testimonianza perché effettivamente ci sono tantissimi colleghi del mio percorso professionale ormai di 32 anni che sono venuti da tutta Italia a trovarmi e siamo tutti unite dallo stesso spirito di servizio, con disciplina e onore a servire il nostro paese. Mi auguro e sono sicuro che troverà una persona all'altezza che potrà proseguire il lavoro.